Ed ora ci addentriamo ancora di più nella pagina sportiva, riflettori accesi sul calciomercato per vedere se ci sono le novità di questo fine settimana in casa Pescara e Pineto, ma tutto questo lo chiedo a Massimo Profeta che è qui con me in studio. Buongiorno Massimo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e tutti gli amici di Visione dell'Ascolto. Partiamo da Samuele Spalluto perché se ne è parlato in questi giorni, in queste ultime ore, addirittura qualche sito aveva già dato per certo l'ingaggio da parte del Pescara, nulla di tutto ciò perché c'è una distanza ancora enorme con la Fiorentina che è proprietaria del cartellino. Il giocatore vuole giocare a Pescara, il giocatore lo diciamo subito, l'attaccante lo stiamo vedendo qui, ha segnato un gol contro il Pescara due anni fa, tra poco vedremo anche il secondo gol realizzato in quella stagione in occasione dei play-off, col Gubbio ha fatto molto bene, 11 reti, play-off compresi. Poi come capita a questi ragazzi che si mettono in luce, provengono dalla primavera invece di consolidarsi in categoria, scelgono di andare in serie B anche mal consigliati e infatti a Terni lo scorso anno, sei mesi, soltanto 12-14 minuti, tre spezzoni di partita e poi ha disputato gli ultimi sei mesi, gli sei mesi dell'ultima stagione, nelle fila del Novara, due gol soltanto l'attivo in 13%. Stavamo dicendo c'è una distanza notevole con la Fiorentina, il ragazzo vuole venire a Pescara, è assistito dall'agenzia di Giovanni Branchini che però in questo momento Paolo è concentrata come agenzia a intavolare la trattativa col Bayern per Vlaovic e quindi chiaramente Spalluto passa in secondo piano, la Fiorentina vuole soldi perché entriamo proprio nel merito della questione, chiede soldi più il 50% sulla rivendita futura di questo attaccante. Ci siamo sulla percentuale, non sui soldi, insomma non c'è l'accordo, passerà ancora qualche giorno, probabilmente qualche altra settimana, staremo a vedere, però insomma sono monitorati anche altri profili. Spalluto rimane tra gli obiettivi, tra l'altro non c'è l'intesa neanche colpizza per Cristian Tommasini che è un altro obiettivo del Pescara, del DS Daniele Delicarri, a prescindere dal destino, questo lo voglio sottolineare, lo abbiamo già fatto e lo rimarchiamo di Edoardo Vergani. Cristian Tommasini, un giocatore che piace a Delicarri, piace a Zeman, un giocatore che si è messo in evidenza, l'abbiamo già detto, nel Taranto 8 gol in 31 partite, una squadra che ha segnato pochissimo, soltanto 26 reti, il secondo peggiore attacco lo scorso anno dell'intera Serie C senza nulla togliere all'ottimo lavoro, per carità, fatto da Eziolino Capuano, il Taranto ha anche sfiorato i play-off, però ecco non c'è l'accordo con il Pisa, c'è l'accordo invece con l'intesa con il giocatore, quindi staremo a vedere. Intanto c'è da dire che è stato ufficializzato Denis Manu, questo italo-ganese che da ieri ha cominciato gli allenamenti perché aveva un problema alla caviglia, ha superato, Denis Manu è un classe 2003, un altro giocatore che dobbiamo scoprire, se ne è parlato molto bene, era tra gli obiettivi di tante squadre di Serie C, il Pescara è stato bravo ad anticipare gli altri club, ha militato nel Matera lo scorso anno, ex Primavera Brescia, è una mezzala. Per quanto riguarda il destino di Mora, Mora sembra intenzionato a lasciare Pescara, insomma malgrado l'opera di persuasione fatta dai dirigenti Biancazzuri perché vuole ancora giocare, si sente in grado di poter essere ancora protagonisti, chiaramente Zeva non gli può garantire la maglia titolare, a 35 anni probabilmente lascerà Pescara dopo una stagione tra l'altro caratterizzata da ottime partite, soprattutto nella prima parte è sicuramente stato un leader di questa squadra. Se dovesse andare via Mora come sembra, allora ci sarebbe la possibilità concreta davvero di arrivare a Daniel Sannipoli del Latina, classe 2000, c'è ancora da parlare con la società pontina, insomma bisogna trovare l'accordo, però è chiaro che se esce Mora ci sarebbe questa possibilità concreta. Fumata bianca, imminente, almeno lo speriamo perché questa è una trattativa davvero infinita per Antonino De Marco che è una classe 2004 di cui abbiamo parlato tantissimo in questi giorni. L'unico elemento giocatore richiesto effettivamente da Zeman che è un vero e proprio aziendalista, lui sta bene tutto, è stata fatta una squadra piena di giovani di prospettiva, però lui vuole De Marco, gli aveva parlato molto bene Giacomo Modica che ha allenato appunto De Marco lo scorso anno nella Vibonese, 26 presenze e 4 gol, può giocare sia da mezzala che da play, quindi c'è questa duplice opzione. Sembra che sia stato trovato l'accordo con la Vibonese, io ho parlato anche ieri con il presidente Pippo Caffo che è sempre molto disponibile, lui mi ha detto testualmente io sono d'accordo con il Pescara, sono in attesa di una mail di conferma da parte del club biancazzurro, però al momento ancora nulla. Per quanto riguarda invece le altre trattative non ci sono sviluppi circa Romani-Mussolini, 20 anni, terzino destro della Lazio, così come sul 22enne Edoardo Pierozzi di proprietà della Fiorentina. E arriviamo al Pineto perché la squadra, o meglio il DS Marcello Di Giuseppe sta definendo due importanti operazioni, si tratta di due giovani a titolo definitivo dalla Roma, la mezzala sinistra Alessandro Pellegrino, classe 2005, che lo scorso anno ha militato nel Latina, quindi Di Giuseppe lo conosce molto bene, 11 presenze in Serie C e sempre dalla Roma arriverà all'esterno d'attacco di piede destro Mattia Ruggero, classe 2004. E quindi sono queste operazioni che saranno definite nelle prossime ore. Non ancora tesserato, anche questa è una notizia importante, Gianmarco Ingrosso che aveva lasciato Pescara per abbracciare il progetto Pineto, classe 89, lamenta un problema al tendine. Se sarà risolto da Ingrosso in tempi brevi allora sarà tesserato l'esperto difensore Salentino. Questo pomeriggio, prima uscita del nuovo Pineto a Morrodoro contro il Castrum Silvi, squadra di prima categoria, inizio ore 17.30. Massimo, un ultimo flash, i gironi di Pescara e Pineto, cosa si sa? Al Pineto sicuramente il girono di B. Il Pescara ancora non si può dire nulla perché ci sono i ricorsi che saranno fatti, saranno inoltrati da quelle società di cui abbiamo parlato in questi giorni. Le solite cose che succedono in Italia in estate si arriverà presumibilmente oltre la metà di agosto per capire qualcosa, anzi forse probabilmente bisognerà aspettare la fine di agosto perché il Consiglio di Stato è previsto per il 29 di agosto. Sicuramente il campionato di Serie C come quello di Serie B slitteranno tutti e due, slitteranno di almeno una settimana. Intanto il 20 comincia la Coppa Italia. Sì, dovrebbe cominciare, usiamo il condizionale quanto mai di rigore.